Vero cristiano, Juan de Valdez, 1509-1541, teologo, scrittore e riformatore spagnolo, in Le 110 Considerazioni dice Chi vorrà essere cristiano si stimi morto al mondo, quanto a non cercare la gloria né la reputazione del mondo e procuri quello che Cristo procurò e cerchi quello che Cristo cercò, in questo modo sarà vero cristiano. Commento L'Evoluto ha compreso che l'unica maniera per cambiare la sua vita attuale è quella di cambiare la sua vita attuale, e come? Morendo al mondo.